Il calcio mercato del Napoli sta entrando nel vivo Il calcio mercato del Napoli sta entrando nel vivo Dijon sta trattando un giocatore del Massiglia Dijon sta trattando un giocatore del Massiglia Dijon 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 Andiamo a vedere se i napoletani lo prenderete. Andiamo a vedere se i napoletani lo prenderete. Per 20 milioni di euro potrebbe in curuzione. Per 20 milioni di euro potrebbe in curuzione. Per 20 milioni di euro potrebbe in curuzione. Non funziona. Per 20 milioni di euro potrebbe in curuzione. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no E baselline? E baselline? Trotto? Le batterie Le batterie Le batterie Le batterie Grazie a tutti.